Zio Paperone gli deve la sua fortuna. All'origine della ricchezza del papero più famoso al mondo, la corsa all'oro del 1896 nel Klondike, il celebre fiume al confine tra Alaska e Canada. Amanti dei fumetti, dell'avventura o semplicemente desiderosi di trascorrere qualche ora all'aria aperta con temperature quasi estive, chissà. Qualunque sia la motivazione, hanno preso d'assalto il fiume Hadda alla ricerca di oro. E' accaduto nei giorni scorsi nella zona dell'ecomuseo dell'Adda a Paderno dove sono tornati i cercatori d'oro. Esattamente così, tornati. Perché quella dei cercatori di pagliuzze è un'antica tradizione, ma solo quando il livello dell'Adda si abbassa molto a causa della seccità, come nelle ultime settimane, è possibile praticarla. Eccoli dunque in azione, immortalati da Fiorenzo Mandelli, ex custode della Rocchetta, e ora Cicerone della chiesetta di Santa Maria addolorata, a cui nulla sfugge di quanto accade lungo l'alzaia leonardesca. Armati della classica padella, hanno setacciato il greto del fiume alla ricerca di pagliuzze d'oro o pepite, spiega Mandelli. Nel noto film La febbre dell'oro è il sogno di questi cercatori, che rievocano un po' le imprese e i personaggi del 4West o Charlie Chaplin. I cercatori d'oro, prosegue Mandelli, arrivano e una volta posizionati, prendono la loro batea, termine tecnico della padella usata dai cercatori, e la immergono nell'acqua dell'Adda, iniziando a setacciare il greto, e poi con la canaletta, attrezzo di legno scanalato, iniziano a filtrare il materiale, alla ricerca di qualche pagliuzza. Un lavoro pesante, ma alla fine di una giornata trascorsa all'aria aperta, a volte i risultati arrivano. Un gruppo eterogeneo, milanesi e anche un valtellinese, non si diventa ricchi, ma si arrotonda e ci si diverte, sperando nel colpo di fortuna, zio Paperone insegna.